Assessore Iannone, ultimamente in città c'è un po' di polemica tra i cittadini che si sono visti recapitare prima le bollette dell'acqua relative al 2021 e adesso quelle relative al 2022, ma che cosa è successo? Lo vogliamo spiegare? Allora sì, è semplice, abbiamo dovuto inviare la bollettazione dell'acqua anche con riferimento all'annualità 2022 per adeguarci alla carta dei servizi che era stata approvata dalla precedente amministrazione nel settembre del 2020 e per adeguarci alla normativa RERA che prevede fatturazioni periodiche nel corso dell'anno con cadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale a seconda del consumo che è stato effettuato negli anni precedenti. Per mandare la bollettazione e quindi per metterci a norma e quindi seguire quelle che sono le norme vigenti in materia e la carta dei servizi appunto abbiamo dovuto inviare necessariamente le bollette riferite al precedente periodo, cioè al 2020 e al 2021 perché non avremmo potuto fatturare o mandare le bollette riferite al 2022 senza prima mandare quelle riferite agli anni pregressi. Tra le altre cose le bollette riferite agli anni 2020 e 2021 abbiamo previsto la possibilità per gli utenti e per i cittadini di pagare ratealmente quindi con rate bimestrali mentre per quanto riguarda il 2022 la scadenza che è stata diciamo prevista è quella del 30 settembre per il primo periodo di fatturazione e chiaramente non potrà essere pagata ratealmente perché è già di fatto rateale la scadenza, è già riferita ad un periodo frazionato dell'anno. Perché però questo aumento dei costi? Dipende dall'amministrazione? No, assolutamente no, non è nella nostra intenzione, non sarebbe stata nell'intenzione di nessuno aumentare il costo del servizio dell'acqua ma come ben sapete con le tariffe e con le bollette dell'acqua viene ad essere coperto l'intero costo del servizio per cui quindi il comune valuta sulla base di un piano economico finanziario quelli che sono i costi sia dell'approvvigionamento sia del di tutti i servizi ad essi connessi e sulla base dei costi che deve sostenere si applicano vengono determinate le tariffe è evidente quindi nessun altro diciamo non possono essere dirottati i proventi delle tariffe per coprire servizi diversi se non quello idrico ed è evidente che l'aumento del costo dei del del servizio per il cittadino è dovuto principalmente ad un aumento dei costi delle materie prime energetiche tra cui principalmente il gas e l'energia elettrica aumenti che chiaramente non sono dovuti a questa amministrazione ma dovuti ad una crisi di livello internazionale che ha generato un aumento non solo delle materie prime ma poi a catena anche di tutte le altri beni determinando un'inflazione elevata nell'area euro principalmente quindi gli aumenti sono dettati soprattutto e principalmente da questi aumenti delle delle materie prime energetiche e poi in secondo luogo dal fatto che bisogna adeguarsi ai nuovi criteri che l'area era dettato per la determinazione della tariffa del servizio idrico secondo il principio della convergenza e quindi necessariamente abbiamo cercato anzi soprattutto di togliere dal nel piano economico finanziario soprattutto i costi di investimento cercando quindi di limitare al minimo anche gli effetti dell'applicazione delle dei criteri fissati dall'area quindi abbiamo cercato di diminuire questi l'impatto negativo di questi fattori esogeni sulla diciamo sulle bollette degli utenti il comune per andare incontro alle esigenze comunque dei cittadini che hanno a che fare insomma con questi aumenti generalizzati ha previsto qualcosa sì noi abbiamo se proprio per stare vicini ai cittadini e capendo le esigenze soprattutto dei cittadini meno abbienti abbiamo previsto delle misure dei contributi a favore delle appunto delle persone più bisognose la cui domanda il cui bando è già uscito e le cui domande il cui termine di presentazione delle domande scadrà il 31 di agosto proprio per dare dei contributi a coloro che hanno più difficoltà nel pagare sia le bollette dell'acqua ma anche altri servizi e altre spese che a cui non possono far fronte tra le altre cose nel corso dell'anno procederemo anche a rimpinguare o comunque a prevedere altre somme a favore sempre delle categorie meno abbienti e senza tralasciare e ricordare ai cittadini la possibilità di fruire delle misure statali previste a favore sempre delle categorie più bisognose come il bonus idrico i cui presupposti sono previsti dal legislatore e di cui possono fruirne tranquillamente presentando un'apposita domanda sia al concessionario che al comune.